Buonasera amici appassionati del campionato di Serie I e ben ritrovati ancora con le emozioni di questo campionato. Sono pronte al centro del campo Mobi e Cra Ferrovie Nord Milano a sfidarsi. Andiamo a leggere gli schieramenti delle due formazioni. Mobi con Albanese, Armiraglio, Caccavale, Calmi, Cecilia, Torraca e Paciulli. Cra Ferrovie Nord Milano con Calderan, Comodo, Spina, De Cesare, Pertile, Turconi e Mangano. Arbitrerà l'incontro del signor Leccai e quasi tutto pronto. E si comincia con Cra Ferrovie Nord Milano, Mobi. Armiraglio, il tocco, Caccavale, pensa alla conclusione, fuori. Turconi con il destro, Rombolà, rimane fermo e la parla. La porta, pensa alla conclusione, la fa partire, grande, parata di Rombolà. Spazio per Calderan che prova a ripunta per l'impiene Paciulli, Armiraglio, prova a riviare, quasi. Non la mette dentro, grande intervento di De Cesare. Opportunità, uno contro uno, De Cesare riesce a dire di no, ancora Albanese. Spreca, una grande opportunità, numero 10. Caccavale, Albanese, attaccato alle spalle, senza fallo. Comodo, pallone, schizza, buono per Calderan, che colpisce in pieno la traversa. Albanese, vuole il destro, ci va, rientra bene, in verticale, il tocco, l'1-2. Vantaggio, Mobi, il gol di Albanese. Fine primo tempo, parziale, che vede, avanti Mobi, 1-0. Si ricomincia con il secondo tempo di Cra, Ferrovie Nord Milano contro Mobi, Turconi al destro. E il gol! La rete fortunosa di Cra, il rimpallo, alla fine, favorisce il numero 7, Pertile, anzi è Calderan, che segna il gol dell'1-1. Paciulli da Caccavale, spazio per Rombola, che pezza la conclusione colpisce in faccia, De Cesare, che botta. Si muove Dospina davanti, si ricomincia ancora da capitano. De Cesare offre l'opportunità larga, tutto solo, l'estremo difensore controlla, spazio per calciare, fa partire il mancino, fuori di poco. Rombola, rischia, perde palla, Turconi, siamo ancora 1-1, a meno di 10 dalla fine, Calderan mette ordine, Dospina se la ritrova lì, grande numero, Dospina con la punta, palo esterno. Tutto solo Calderan, cicca la conclusione, como, se lo divora. Coni, De Cesare, attaccato, Paciulli contro la calcia, super intervento di De Cesare, che salva i suoi. De Cesare allarga, Turconi, ha un po' di spazio, se lo prende tutto, rientra sul mancino, lo fa partire una deviazione! Non batte comunque Rombola, che con un grande riflesso la mette in angolo e poi ancora, si supera sul destro di Turconi, pazzesco Rombola. Cra in attacco, palla dentro per Como, che non può sbagliare, mette dentro il gol del 2-1 e riporta, avanti Cra, adesso ad un passo dalla quarta vittoria in quattro gara. Palla in verticale, Como riesce a spizzarla e Pertile la deve solo spingere dentro. Grande, giocata ancora del 9. Triplice fischio, finisce qui Crafero e via Nord Milano, vince nel finale, 3-1 il risultato.